Sacro blog Fasi Chiudo la porta Fasi prima della partenza Sono le 9.05 E ancora Olin e William hanno già arrivati Mi dovrebbero venire a prendere tra poco Guardate la mia coda Si fa schifo va bene lo so Però è per comodità Comunque lasciando perdere questo Guardate il mio me Mi mancherà che bello Comunque sono su facebook Sto vedendo che cazzo fare Non c'è niente da fare William è offline Più o meno Andiamo su msn Comunque come potete vedere Qua c'è la mia stanza La valigia E' qui fuori C'è mia madre se non mi rompe E' lì E' lì E' lì E' lì E' lì E' lì E' la mia chitarra Si vede la minga La maglietta E' che dire ragazzi Che dire Sto per partire di nuovo In ritorno Andrò a rivedere di nuovo I miei amici catalani Vabbè Allora ci vediamo Più tardi Fista Express Sacro bloc Nella macchina 213 23 Vabbè non lo dico No è 23 Io sto a memoria Oggi ho fatto un visto 213 Siamo nella macchina Questo qui lo carichiamo Arriviamo sicuramente Stiamo partendo Stiamo partendo Ci è venuto a portare Guarda che mi disse Ah si Mi disse una cosa A me pure mi fa Bastato Augure Ma stiamo Attendo Mi ha messo augure Non lo so A me mi ha chiamato Mi ha messo un messaggio Però non mi ha detto Lo chiaro Ma c'è chi sa La fa Alessandro Il chidio cattivo L'iberio Che è pulito Lui in coccaci Ci ha fatto Leggi questo messaggio Non ti vede nienta Marco Sì sì però Ha detto Buon viaggio Ne vediamo La prossima settimana Vabbè concludiamo È il più unico Che ci ha pensato Proprio sta l'alzino Quindi Ecco la panoramica Di casa l'insetto Perché fa un posto A quel video La vedremo Con la settimana Nel video Vabbè Ragazzi tranquilli Potete leggerci i video Con la carta l'insetto Dopo lo spiango Di ieri sera Davanti mezzo alla strada Stacco